In questa puntata di Unicam News, ad Unicam convegno su Stato sociale e tutela dei diritti sociali, successo per un dottorando Unicam al Berkeley National Laboratory. Unicam accoglie gli studenti delle scuole superiori per gli stage. Grande successo per la serie di aperitivi con l'autrice promossa dal Comitato Unico di Garanzia di Unicam. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Unicam News, questi titoli ma iniziamo subito con il primo servizio. Stato sociale e tutela dei diritti sociali è stato questo il tema delle due giornate internazionali di studio promosse dall'Università di Camerino nell'ambito delle attività della Cattedra UNESCO Diritti Umani e Violenza, Governo e Governanza, progetto di iniziativa delle Nazioni Unite che vede coinvolte università europee e latinoamericane. La Cattedra, con sede centrale presso l'Università d'Externado di Colombia, è coordinata a Camerino dalla professoressa Maria Cristina De Cicco. Il convegno si è articolato in tre sessioni di lavoro che, con approccio multidisciplinare, hanno offerto un approfondimento dei temi legati alla tutela dei diritti sociali e della dignità della persona umana. Data l'attualità nonché l'interesse internazionale del profilo analizzato, hanno partecipato ai lavori studiosi italiani e stranieri di chiara fama scientifica. Il convegno ha voluto dunque offrire un contributo significativo al dibattito in atto nei vari settori della società, proprio per l'estrema rilevanza della tematica della protezione dei diritti umani e sociali nella consapevolezza dell'essenzialità dei valori della libertà e dell'uguaglianza in uno stato di democrazia. Un altro importante riconoscimento per Unicam, il dottor Francesco Mancini, dottorando del curriculum Civil Law and Constitutional Legality della scuola Unicam di giurisprudenza, ha avuto l'opportunità di essere visiting PhD presso il laboratorio di ricerca Lawrence Berkeley National Lab in California. Il dottor Mancini sta svolgendo un dottorato sotto la supervisione della professoressa Lucia Rogeri, cofinanziato dall'Ateneo, dal gruppo Loccioni e dalla Regione Marche, e si propone di individuare le principali questioni giuridiche e contrattuali nell'ambito delle microgrids, cioè delle reti elettriche private che collegano un numero limitato di edifici e nelle quali l'energia elettrica viene in gran parte autoprodotta, consumata ed in particolari circostanze immagazzinata. Lo abbiamo incontrato. Io ho avuto la fortuna di spendere un periodo di circa sei mesi al Lawrence Berkeley National Lab, che sarebbe uno dei più importanti, che è uno dei più importanti laboratori di ricerca nazionale, finanziati dal Dipartimento dell'Energia negli Stati Uniti. E proprio in questo laboratorio sono stati concepiti per la prima volta i concetti di microrete e di domande-response e avere la possibilità appunto di studiare tutte le tematiche normative legate a queste nuove figure tecnologiche e a tutti gli aspetti, come ad esempio la nuova figura degli aggregatori che sta emergendo con la direttiva del 2012, che ad esse sono legate. Come da tradizione consolidata dai successi delle precedenti edizioni, anche nel mese di novembre si sono tenuti gli stage in Unicam, rivolti ai ragazzi dell'ultimo biennio degli istituti di istruzione superiore. Il progetto ha lo scopo di fornire ai ragazzi la possibilità di avere un primo contatto con il mondo universitario, partecipando a lezioni e a progetti di ricerca al fianco dei docenti Unicam, avendo la possibilità di conoscere, anche attraverso le testimonianze dirette di chi ha già fatto la scelta universitaria, i percorsi formativi, le strutture, le opportunità e i servizi che le scuole mettono loro a disposizione. Sono stati infatti oltre 100 gli studenti provenienti non solo da diversi istituti delle Marche, ma anche da fuori regione che dopo essere stati accolti alla Sala degli Stemmi di Palazzo Ducale dalla professoressa Valeria Polzonetti, delegata del Rettore per le attività di orientamento, hanno partecipato insieme ai loro insegnanti e ai tutor Unicam ad incontri e attività presso le strutture e i laboratori dell'Ateneo. Grande successo per la serie di aperitivi con l'autrice promossa dal Comitato Unico di Garanzia di Unicam, presieduto dalla professoressa Piera Di Martino. Protagoniste dei tre incontri sono state rispettivamente Valentina Maran e il suo blog, Lorella Zanardo e il suo libro, senza chiedere il permesso, e per concludere Loredana Lipperini, che ha presentato il suo ultimo libro dal titolo Questo trenino a molla, che si chiama Il Cuore. Con questa serie di incontri si è voluto offrire alla comunità universitaria e a tutta la comunità del territorio un momento di incontro conviviale con donne, autrici di libri, ma non solo autrici artefici della propria vita, del proprio modo di essere donna nel combattere le ingiustizie, false ideologie di imporsi nella società con la propria personalità ed energia. Tutti gli incontri si sono tenuti nella splendida cornice della Sala Giulio Cesare da Varano, del Palazzo Ducale di Camerino. Sono stati aglietati dalle note di musicisti marchigiani ed è stato possibile apprezzare le eccellenze vinicole del nostro territorio in collaborazione con importanti aziende vitivinicole. Bene, con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi, ma prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento con Unicam News torna la prossima settimana, alla stessa ora, e tutte le informazioni sull'Università di Camerino le potete trovare sul sito internet www.unicam.it. Grazie e buon proseguimento. Grazie a tutti.